Un'indagine partita da Marcon che poi si è stesa a mezza Italia, portando alla luce una ramificata organizzazione che gestiva case d'appuntamento in tutto il settentrione. Sette gli arrestati, cinque di nazionalità cinese e due italiani. Una quarantina invece le persone, le cui posizioni sono al vaglio degli inquirenti, tra prostitute clandestine e proprietari di appartamenti. Le indagini sono state molto complesse, non solo perché la lingua era incomprensibile, quindi ci siamo dovuti avvalere anche di interpreti, ma perché il mondo della criminale cinese è silenzioso ma non meno pericoloso di tante altre organizzazioni criminali. Le ragazze attirate in Italia con la prospettiva di un lavoro finivano intrappolate nelle case d'appuntamenti private di ogni libertà personale, ciclicamente spostate da un capo all'altro del nord Italia a seconda delle esigenze dell'organizzazione. Il giro d'affari reingente e ogni casa d'appuntamenti fatturava circa 5.000 euro al giorno, 150.000 al mese. I carabinieri hanno sequestrato quattro immobili e un'automobile per un valore complessivo di un milione di euro. L'indagine era partita nel luglio dell'anno scorso grazie alle segnalazioni di alcuni residenti di Marcon. I cittadini quando vedono qualcosa che non li convince, qualcosa in relazione alle quali hanno delle perplessità, è opportuno che non facciano finta di non vedere, che non si girino dall'altra parte, ma che vadano dalle forze di polizia a denunciare subito i fatti. L'indagine ha avuto anche altri risvolti. Uno ha portato ad un centro estetico abusivo a Milano, dove si facevano anche iniezioni di botulino. Un altro ha portato a Mestra, nella zona di Via Piave, dove era stato allestito un bed and breakfast abusivo.